benvenuti ragazzi e ben ritornati finalmente la vostra ma stessi del 6 dopo il video che ho fatto ieri dal treno e oggi siamo tornati qui sul PES 2019 per fare la seconda giornata della Juventus nella cento sviluppo e vi faccio dico l'anticipo ovviamente ho deciso che tutti i video più belli comunque tutti i video che farò della playstation li editerò insieme a share petroli che è il sito con cui ho editato ieri della polona che è un'app gratis come devi sfruttare nella playstation niente direi di iniziaria in questo video uscirà molti tanti perché lo sto registrando alle 11 di mattina sono qua siamo all'alimento stadium e questo video al circo ci va verso al 12 al 12 perché ne ho evitato a tutto quanto spero di farlo giurare il meno ma che devi accettare pulsi bang serie di passaggi tra darmi e da pulsi danziuma attenzione rezaei guarda c'è la scosta una scosta funziona una scosta da la scosta tira giro formidabile da la scosta che va dell'1-0 per la formazione bianco nera scusa aggiungerà anche matteis del hit e poi le tizze sono chiare che no e ghiatta barbe anche per se per il suo la cava ghiatta barbe e sono benissimo io non so più qui perché a barbe ma di bala 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 ma di lì ma va faccio di bala picchia attraversa e ma di ma di quale ventano dì io mi metto al seno le cross per pulso che trova al tiro alle stelle per la fine di questo primo tempo il mio 4-2 il mio 4-2 il mio 4-2 pulso c'è il mio 4-2 molto più se si fa la carità bruci questi ultimi minuti durante l'ultimo minuti per il primo tempo regolamentare Ronaldo di testa sbaglia completamente il colpo di testa 4-6 milioni perciò proprio la pelina l'unifra Ronaldo la parata col portiere viene all'impianto giocando ancora mi sta donando palo il portiere è bruciato mi sta donando attenzione Duba scossa sbaglia di nuovo tiro spinazzola non è abbastanza più ok la smetto con queste bagianate cerca di liberarsi si è cercato di trovare lo spazio non riesce a trovare lo spazio per tutto il spazio su sinistra non è tale giro spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e le notifiche noi ci vediamo nel prossimo video vi do massacassi se lo sai di tutto bene ragazzi e vi lascio la descrizione ai video di ieri noi ci vediamo ci vediamo ci vediamo ciao ciao ciao